Mostra del riuso creativo, quindi gli oggetti d'arte creati dai rifiuti, complementi d'arredo, pannelli, sculture e quant'altro. 39 artisti per circa 200 opere, quindi avremo tanto da vedere e soprattutto tanti complementi d'arredo, quindi architetti con spazi dedicati. Con semplici parole, il presidente dell'associazione Riciclart, Walter Polignano, ha presentato il decennale che sarà inaugurato alla presenza del governatore della Calabria, Mario Oliverio. Ieri la conferenza stampa dell'evento, che durerà fino al prossimo 27 novembre, per 10 giorni consecutivi con ingresso gratuito presso la Cittadella dei Bambini e dei Giovani di Rossano. Alla conferenza anche gli assessori con delega all'ambiente dei comuni di Corigliano e Rossano. L'impegno che proprio Riciclart ci mette in questa cosa è veramente da applaudire e da prendere come esempio, perché Riciclart ci fa capire che con tutto quello che noi potremmo buttare possiamo creare nuovi oggetti, nuovi complementi per la casa, tutto quello che si vuole, quindi il rifiuto come una risorsa, una risorsa creativa. Complimenti al Presidente e a tutti quanti collaborano per questo evento, perché sinonimo di serietà, sinonimo di coraggio e sinonimo di dedizione al lavoro. Siamo fiduciosi che anche questa nuova stagione di questa edizione sia un successo per loro e per la città di Rossano. Dicevamo 39 artisti per oltre 150 opere esposte, tra sculture, pannelli e complementi d'arredo. Tra le opere spicca la realizzazione di una poltrona, il cui materiale è risalente alle corde della nave Costa Concordia fondata all'Isola del Giglio. Un programma ricco di eventi, tra performance e momenti di riflessione, con eminenti figure del giornalismo e un ruolo di rilievo all'Unical. Coinvolte le rappresentanze nazionali dei consorsi che operano nel settore della plastica, del legno e dell'acciaio. E poi le scuole, in modo particolare gli alunni dell'Istituto Turistico di Rossano che faranno da Ciceroni alla mostra. Con un flashback 10 anni, da ricordare in 10 secondi. Sì, si inizia per gioco in spiaggia, cercando di portare avanti questa mission di comunicazione, di cercare di sensibilizzare su un nuovo percorso ambientale, una coscienza civica nuova nel rispetto dell'ambiente. Iniziando con questa provocazione del riuso dell'arte, dove far vedere che da oggetti che sono destinati alle discariche si riescono a creare delle opere d'arte. Da là tante itinerante, tante cose diverse, mostre del riuso, concerti. È stato tanto e quindi il decimo anno per noi è un traguardo molto molto importante.